Nel nome del Padre, del Friato e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come in mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Leggina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Leggina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino. Stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e tua mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta per le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amin. Santa Maria, Madre di Dio e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. A regnare tra noi, Gesù conquista tutti, vincino ma un volere affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te nel tuo volere, Gesù. Affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te nel tuo volere, Gesù. Dal libro di cielo, volume quinto, 16 ottobre 1903. Trovandomi nel mio solito stato, mi sentivo tutta piena di peccati e di amarezza, onde si è fatto come un lampo nel mio interno. Ed appena ho visto il mio adorabile Gesù, ma però alla sua presenza i peccati sono scomparsi, Dio temendo ho detto. Signore mio, come alla vostra presenza, che io devo conoscere di più i miei peccati, succede il contrario? E lui, figlia mia, la mia presenza è mare che non ha confini, e chi si trova nella mia presenza è come una gocciolina, che sia pur nera o bianca, che nel mio mare si sperde, come si può più conoscere? Inoltre il mio tocco di vino purga tutto, e le nere le fa bianche, come dunque tu temi? Oltre di ciò la mia volontà è luce, facendo tu sempre la mia volontà di pasci di luce, convertendosi le tue mortificazioni, privazioni e sofferenze in nutrimento di luce per l'anima, perché il solo cibo sostanzioso che dà vera vita è la mia volontà. E non sai tu che questo continua a nutrirsi di luce, ancorché l'anima contragga qualche difetto, la purga continuamente, detto ciò è scomparso. 18 ottobre 1903 Continuando il mio solito stato, per brevi istanti ho visto il mio adorabile Gesù e mi ha detto figlia mia, sai tu che cosa forma il peccato? Un atto opposto della volontà umana alla divina. Immaginati i due amici che stanno in contraddizione, se la cosa è lieve, tu dici che non è perfetta, è leale alla loro amicizia, fosse pure in cose piccole, come amarsi e contraddirsi. Il vero amore è vivere nella volontà altrui, anche a costo di sacrificio. Se poi la cosa è grave, non solo non sono amici, ma fiere di amici, tale è il peccato. Opporsi al volere divino è lo stesso che farsi nemico di Dio, sia pure in cose piccole, sempre la creatura che si mette in contraddizione col creatore. 24 ottobre 1903 Avendo detto al confessore i miei timori sul non essere volontà di Dio il mio stato e che almeno per prova vorrei provare a sforzarmi di uscire e vedere se ci riuscivo oppure no, il confessore, senza fare le sue soli difficoltà, ha detto va bene, domani proverai. O Dio sono rimasta come se fossi stata liberata da un enorme peso. Ora, avendoci celebrato la Santa Messa e avendo fatto la comunione, quando appena ho visto il mio adorabile Gesù nel mio interno che mi guardava, con le mani giunte in atto di chiedere pietà ed aiuto, ed in questo momento mi sono trovato fuori di me stessa, dentro una stanza dove stava una donna maestosa e veneranda, ma gravemente inferma, dentro un letto con le spalliere tanto alte che quasi toccavano la volta. Io ero costretto a stare al di sopra di questa spalliera in braccio ad un sacerdote per tenerla ferma e guardare la povera malata. O Dio, mentre stavo in questa posizione, vedevo pochi religiosi che circondavano ed apprestavano cura alla paziente e con immensa e intensa amarezza dicevano tra loro sta male, sta male, non ci vuole altro che una piccola scossa. Ed io pensavo a tenere ferma la spalliera del letto per timore che muovendosi il letto potesse morire. Ma vedendo che la cosa andava per le lunghe, quasi infastidendomi dello stesso ozio, dicevo a colui che mi teneva, per carità, fammi scendere, io non sto facendo nessun bene e dando nessun aiuto. A che pro starmi così inutile? Almeno, se scendo, posso servirla, aiutarla. E quello. Non hai sentito che anche una piccola scossa può peggiorare e succedere le cose tristissime, onde se tu scendi, nonostante chi mantiene fermo il letto, può anche morire. Ed io, ma può essere possibile che facendo solo questo le può venire questo bene? Io non ci credo, per pietà, fammi scendere. Quindi, dopo aver ripetuto varie volte queste parole, mi ha sceso sul pavimento. Ed io, sola, senza che nessuno mi teneva, mi sono avvicinato all'ammalata e con mia sorpresa e dolore vedevo che il letto si muoveva. A quei movimenti quella elevidiva la faccia, tremava, faceva il rantolo dell'agonia. Quei pochi religiosi piangevano e dicevano non c'è più tempo, è già gli estremi momenti. Poi entravano persone nemiche, soldati, capitani, per battere l'ammalata. E quella donna così morente si è alzata con intrepidezza e maestà per essere piegata e battuta. Io nel vedere ciò tremavo come una canna e dicevo tra me sono stato io la causa, ho dato io la spinta a far succedere tanto male. E comprendevo che quella donna rappresentava la Chiesa inferma nelle sue membra con tanti altri significati che mi pare inutile spiegare perché si comprende leggendo quello che ho scritto. Onde mi sono trovata in me stessa e Gesù nel mio interno ha detto se ti sospendo per sempre i miei nemici cominceranno a far versare il sangue alla mia Chiesa. Ed io, Signore, non è che voglia stare nel mio stato, il cielo mi guarda, non è che non voglia stare nel mio stato, il cielo mi guardi che io mi allontani dalla tua volontà anche per un battere d'occhi. solo che se vuoi mi starò, se non vuoi mi leverò. E lui, figlia mia, non appena il confessore ti ha sciolto, cioè col dirti va bene, domani provaci, il nodo di vittima si è pur sciolto perché il solo fregio dell'ubbidienza è che costituisce la vittima. E non mai l'accetterei per tale senza questo fregio. anche a costo se fosse necessario di fare un miracolo della mia onnipotenza per dare l'ume a chi dirige per far dare questa obbedienza. Io soffri, soffri volontario, ma chi mi costituì vittima fu l'ubbidienza al mio caro padre che volle freggiare tutte le mie opere dalla più grande alla più piccola col freggio onorifico dell'ubbidienza. Quindi, trovandomi in me stessa mi sentivo un timore di provare ad uscire. Ma poi me la sbrigavo dicendo dove pensare doveva pensare chi mi era data l'ubbidienza e poi se il Signore mi vuole io sono pronto. Allora, argomenti molto importanti in questa meditazione di oggi alcuni diciamo a sfondo prevalentemente spirituale, morale altri che come l'ultimo è chiaro che si comprende che abbracciano anche la dimensione ecclesiale e anche alcuni aspetti insomma della nostra santa fede tipo la comunione dei santi gli effetti che l'operato di un solo giusto può causare nel bene o nel male quando viene meno su tutto il corpo ecclesiale su tutta la compagine della Chiesa. Quindi andiamo con ordine. Allora, la prima cosa che Gesù dice è riguardo alla sua volontà la goccia presente nel mare e quello che spiega è che certamente almeno fino a quando come dire non ci sia una fusione assolutamente perfetta è possibile che l'anima contragga qualche difetto questo Gesù lo dice ma quando si è dentro il mare Gesù fa un esempio molto se tu metti una goccia trasparente una goccia nera dentro il mare appena l'hai messa pure se era nera cioè una goccia nera dentro dentro il mare non gli fa assolutamente nulla ecco perché Gesù spiega che l'anima sta in continuo atto di purgazione quindi le piccole macchioline sono immediatamente purificate purché però si stia nella divina volontà lui si diceva che si mette alla presenza di Dio e anziché vedere i suoi peccati succede il contrario ecco Gesù spiega la mia volontà è luce quindi luce e tenebre non vanno d'accordo come si ricorda l'Evangelo di San Giovanni e facendo tu sempre la mia volontà di passi di luce e tutte quante le opere buone fatte nella divina volontà e in obbedienza ad essa si convertono in nutrimento di luce per l'anima di mortificazione priazione e sofferenze purché siano tutte quante vissute fatte come sappiamo anche da altri paralleli e scritti nella divina volontà quindi quelle che il Signore ci manda accogliendole con amore e quelle anche che possiamo prenderci noi purché abbiamo un sufficiente grado diciamo di certezza che siano conformi ai divini voleri ecco ma l'attenzione principale è cercare di mettere in essere tutti i mezzi conosciuti e che sappiamo dal complesso degli scritti di Luisa per rimanere per quanto ci riusciamo nella divina volontà il secondo paragrafetto spiega questa è una bellissima definizione abbiamo una definizione alternativa ovviamente perfettamente conforme alla sana dottrina cattolica e alla tradizione del peccato il peccato è un atto contrario della volontà umana alla volontà divina un atto risolutamente contrario quindi in cosa grave sappiamo che Sant'Agostino definì il peccato un'offesa a Dio fatta disobbedendo alla sua legge quindi disobbedire alla legge di Dio è la stessa cosa che andare opporsi alla sua volontà e qui spiega quindi facendo il paragone dell'amicizia questo lo vediamo anche nelle nostre cose umane tanto più cresce il tasso di sincera amicizia e chi ha il dono di una qualche amicizia ringrazia il Signore perché è un'amicizia degna di questo nome come dicono come dicono i bisaprenziali il dono del cielo ma due amici basta leggere l'ufficio della lettura del 2 di gennaio quando San Gregorio Nazianzeno parla della sua amicizia con San Basilio Magno o il contrario adesso non mi ricordo lui diceva eravamo due corpi eravamo un'anima sola perché la vera amicizia comporta veramente questa unisonanza che non è tensione non è voler per forza compiacere a tutti i costi l'altro anche quando non fosse giusto opportuno ma è quella capacità diciamo dialogica di ascolto e di rimando reciproco che fa comunque di due persone una sola cosa quindi che esperisce mette in essere tutti quanti le modalità della bontà della carità della dolcezza perché un'amicizia che fosse complice nelle cose cattive quindi adeguandosi alle cose cattive dell'amico per farlo contento non sarebbe un'amicizia vera chiaramente nell'amicizia con Dio le cose pendono un po' verso uno dei due soggetti perché noi possiamo farci nemici di Dio ma Dio non diventa mai nemico nostro Dio non diventa mai nemico nostro subisce soltanto i nostri atti di opposizione e di nemicizia ma Dio non cambia l'amore che ha verso di noi è perpetuo qui ci sarebbe non voglia di assampriare troppo i confini della meditazione ma ricordiamo sempre che Dio all'inferno non ci manda nessuno un inferno è l'auto esclusione colpevole volontaria perpetua dall'amicizia con Dio che purtroppo è soggetta alla cattiveria di Satana che è il solo colpevole qua di tutte quante le sofferenze e i tormenti della dannazione io ricordo sempre quando parlo di queste cose che ti rimasi molto colpito quando vedi che Santo Ammaso Tapino che pure sembra come dire non essere arrivato non mi voglio permettere di giudicare un così grande dottore però lui attribuisce fondamentalmente l'inferno a un atto della divina giustizia ma mi sembra quello che mi ricordo è quello che compresi che non aveva fatto quei passaggi ulteriori che fanno proprio comprendere come non si tratta di una punizione inflitta da Dio ma si tratta di una punizione che la creatura si affligge da se stessa contro la volontà di Dio però nonostante che ci fosse questo lui stesso Santo Ammaso dice che all'inferno arriva la divina misericordia nel senso che l'odio feroce dei demoni non si può sfogare tanto quanto vorrebbe perché Dio non permette che i dannati siano tormentati più di quanto la gravità e il numero del loro colpo sia meritato e non con tormenti diciamo così non adatti al tipo di peccato diciamo per il quale si trovano all'inferno quindi questo lo dice Santo Ammaso che pure con tutto il rispetto a quanto mi ricordo e a quanto mi sembrò di percepire non aveva ancora chiara come appare un po' di più nei tempi odierni che la dannazione è l'atto supremo dell'esercizio disordinato e assurdo della libertà umana che fino all'ultimo rifiuta l'amore di Dio che per quanto sta a lui non cambia e anche quando si converte per il nostro bene in qualche correzione i cosiddetti castighi è sempre e solo fino a quando siamo in questo mondo per la nostra conversione per il nostro bene quindi è da folli farsi nemici di Dio noi dobbiamo sempre pensare questo l'ho sempre detto anche spesso soprattutto ai giovani per far comprendere tante cose di chi guarda che se tu fai un atto impuro non fai un atto impuro che sembra che questa sia una delle materie più incandescenti per i giovani non è che a Dio gli cambia qualcosa non è che fai contento non è che fai un favore a lui se gli dice di non fare una cosa di questo genere pur essendo una cosa apparentemente divertente bella gratificante piacevole soddisfacente tutto quello che vuoi è perché il male che quest'atto produce che tu non vedi è grande fa male a te è come quando uno si mangia funghi avverenati io tante volte ho da predice ho celebrato un funerale di una persona morta poverina perché si è mangiato un piatto dei funghi avverenati perché dicono che alcune specie di funghi avverenati se tu te li mangi sono buonissimi sono più buoni dei funghi porcini più buoni dei funghi galletti non so tutte le più grosse peribatezze e tra l'altro dicono anche che alcune specie di funghi avverenati sono molto simili a quelli nell'aspetto a quelli simili che sono invece non avverenati e buonissimi e che solo un grande esperto li può far riconoscere diciamo queste cose perché anche nel fiat creante ci sono molti spunti di meditazione quando sappiamo vederli questa è una buona meditazione da fare è chiaro che se il micologo ti dice non ti mangiare il funghi avverenato perché ma è tanto buono te lo mangi te ne vai al creatore non va al creatore il micologo va al creatore tu ecco questo dobbiamo sempre ricordarlo vi permetto di chiudere perché quando una persona come dire fa il peccatore in realtà è ateo io più di qualcuno mi sono trovato poi dove gli ti escusi scusa un attimo ma tu ci credi in Dio oppure no perché non è peccato devi avere il problema di quello che fai o di quello che non fai se Dio esiste e ti dice di fare una cosa e di non farne un'altra ed è buono il discorso è finito d'accordo a meno che tu non sei matto cioè che vai contro la mente infinitamente più sapiente di te che ti dice una cosa solo per il tuo bene se tu quella cosa la traslisci ecco perché nel Vangelo di San Giovanni l'ho detto tante volte l'unico peccato che sembra che gli uomini possano fare è non credere in colui che il Padre ha mandato d'accordo perché per me è da folli d'accordo se una persona fosse veramente convinta e credesse che Dio esiste e che agisce soltanto per il tuo bene dice non fare questa cosa io piuttosto faccio ammazzare piuttosto che farla la faccio e non vado ad inclinare l'amicizia per quanto possibile nemmeno nel poco quindi un conto è il difetto di cui parlava nel primo paragrafetto che poi si perde nel male della dinavolontà un conto è il peccato volontario forse anche minimo su una piccola cosa che è una lieve contraddizione certamente ma più una perfetta e leale amicizia quello che è importante le nostre scelte è che per quanto sta in noi guardarci dall'offendere anche minimamente il nostro Signore che è una conseguenza diretta diciamo delle virtute locali della fede e della carità a mio decisivo avviso insomma bene adesso arriviamo ad un altro punto abbastanza delicato che è il punto di questa immagine di questa donna sofferente anzi agonizzante chiamo nel 1903 ottobre del 1903 qui siamo se non era già morto non era già arrivato siamo nella fase di transizione tra leone tredicesimo e San Pio X mi ricordo che San Pio X è iniziato nel 1904 comunque siamo siamo lì e la chiesa era a quei tempi bombardata pesantemente a quello che sappiamo sia dall'esterno quindi era già ampiamente cominciata l'opera degli atei dei massoni insomma non stiamo molto lontani dalla breccia di portapie eccetera eccetera sia purtroppo anche da bombardate che cominciavano a infiltrarsi anche se moderatamente all'interno a quei tempi di San Pio X non c'erano non c'erano non c'erano i mass media non c'erano quindi non lo so ecco in ogni caso diciamo che nel corso della storia la chiesa subisce continuamente perché quando Gesù dice le porte degli inferi non prevarranno contro di essa non prevarranno significa che non avranno la meglio ma il tormento è continuo è d'accordo continuo se uno studia la storia della chiesa sono rari i momenti in cui non ci fosse qualche guaio qualche tormento dentro o fuori insomma di tutti i colori ce ne sono stati di tutti che cosa bisogna fare dinanzi a questo ecco vedete anzitutto pochi religiosi che ci scondavano ed ammaestravano cure alla paziente quindi maestà cioè cure alla paziente vuol dire anzitutto avere un grandissimo amore alla chiesa come dire sollecitudine ecco per cercare di fare quanto noi possiamo per tirarla fuori o aiutarla uscire fuori dalle situazioni di infermità di debolezza causate o da disordini interni dei propri organi ecco o da agenti patogeni esterni quindi questa è una cosa che devono fare tutti pochi religiosi però che significa significa che altri o non gli importa niente o ci mettono il carico da 90 oppure anziché prestare cure amorevoli vanno a metterci l'acido fenico insomma dentro quindi anziché insomma mi pare che l'ho già detto in qualche altra meditazione anni addietro c'era un presidente della repubblica italiana che si chiamava il picconatore penso che tutti lo ricordiamo no se tu dai picconi 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 sfasci tutto non è che aggiusti qualcosa certo piccone certe volte serve se uno deve ristrutturare un'area insomma la deve demolire però non si può soltanto piccone ogni tanto bisogna pure usare la calce e la gazzuola per mettere a posto insomma qualche muro si può soltanto piccone perché lo sfascismo che è il contrario di un oscuro movimento politico di estrema destra del secolo scorso è molto diffuso lo sfascismo che non è come il fascismo lo sfascismo è quello che sfascia tutto cioè che vede sempre il nero che sta sempre inesolabilmente a mettere i dita sulla piaga questo non è assolutamente un modo di agire le piaghe vanno fasciate vanno ferite non vanno mostrate ecco e ostentate a volte oppure ripeto incancrenite buttandoci sopra l'aceto o l'acido fencio innanzitutto da parte di tutti perché adesso poi qui c'è il compito particolare di Luisa che emerge da qui da parte di tutti ci vuole un grandissimo amore una grandissima cura cioè la chiesa è una cosa che ci appartiene non è che se uno fa un peccato sono affari suoi sono affari miei sono non perché è una cosa che fa male a me e io devo lasciarmi far fare male da quella cosa e cercare di guarire quella ferita così come va guarita in stile evangelico poi Gesù spiega chi sono dice entravano persone nemiche soldati capitani per battere l'ammalata e quella donna così morente si è alzata con intrepidezza e maestà per essere piegata e battuta no quindi però un conto sono gli attacchi feroci fatti dai nemici un conto sono quelli che dovrebbero fare che dovrebbero fare dall'interno i membri è brutto vedere che solo pochi religiosi stanno al fianco della capezzale apprestando cure alla paziente le cure si esercitano con l'amore con la misericordia anche con la difesa se mi si consente della chiesa non il difendere l'indifendibile però un conto è un atteggiamento di chi ci mette il carico da 90 perché è vero che ci stanno tanti peccatori ma ci stanno anche tanti santi è vero che ci può essere qualche scandalo ma ci sono anche tantissimi esempi edificanti e di carattere universale nella santa chiesa è vero che ci sono state delle situazioni gravi certamente ma tutte quante le situazioni vanno comunque appunto primo ben analizzate d'accordo quindi non andando dietro ipso facto e pedisseguamente insomma la propaganda dei nemici della chiesa che caricano enfatizzano e a volte anche esagerano certe cose in maniera anche a volte storicamente non del tutto corretta possiamo accodarci al coro dei dei detrattori così non va bene non possiamo difendere indifendibile insomma sono state delle cose oggettive storicamente provate ecco diciamo che c'è stato un buon esempio San Giovanni Paolo II in quello che fece nel 2000 dove pur mettendo come dire qualche ditino nella piaga e compiendo quello che lui chiamava gesto della purificazione della memoria però circostanziò con molta attenzione bisognerebbe andare a rileggere bene non tante le parole che ha scritto no le situazioni che intendeva riconciliare bisogna leggere molto dice io come Papa chiedo perdono a nome della Chiesa per qualche volta in cui qualche figlio della Chiesa qualche volta qualche figlio che magari il nome della doverosa difesa della verità ha mancato alla carità tra l'altro questo è anche un fenomeno a quanto diffuso anche oggi quindi non è né attribuire alla Chiesa qualcosa che non ha né fare di tutto l'altro un erbo un fascio né prestare certamente le cose che ci sono state ci sono state però l'atteggiamento fondamentale è quello dell'amore e della difesa non dell'andare a picconare o a sfasciare tutto ecco e qui entra il ruolo di Luisa cioè se le vittime cessano di fare il proprio compito e questo nessuno lo sa i nemici cominceranno a far versare il sangue alla Mecchese qui c'è il prequel di Luisa che questo suo solito stato attenzione non era soltanto il solito stato che stava sempre a pensare a Gesù Cristo il solito stato era lo sappiamo quella cosa strana dell'irrigidimento che era una grande mortificazione immaginate una persona che rimane come un palato come un baccalale dentro il letto e rimane così fino a quanto il sacerdote ne va a fare segno di croce e questo lo tormentava in continuazione intanto cominciava a pensare non è la volontà di Dio non è la volontà di Dio poi non dice chiedo al Signore che mi sospende che non mi sospende era questo anche perché poi gli veniva il santo pensiero attenzione no? eh ma devo dare fastidio al sacerdote che deve venire qua tutte le mattine a farmi sta cosa quindi se il Signore mi libera non do più nel senso un fastidio il demonio come è terribile quando farci uscire dall'obbedienza con le buone intenzioni e Gesù dice guarda che se questo io solo che tu l'hai chiesto e qui andiamo al solo che tu l'hai chiesto e il confessore ha detto vabbè domani provaci già questo è già questo ha peggiorato la situazione solo che tu l'hai chiesto e qui Gesù fa la solita supercatechesi sull'ubbedienza e questo dobbiamo pensarci tutti ecco ubbidiente fino alla morte è una morte di croce questo dobbiamo pensarci sempre cioè il valore di quello che Gesù ha fatto come lui spiega non è l'intensità troce delle sofferenze che ha vissuto e non soltanto quelli esteriori come sappiamo ma anche tutti quelli interiori che ha vissuto fin dal distante del concedimento ma è l'ubbidienza lui ha fatto queste cose per ubbidire al padre e lo ha fatto per amore e con amore è questo che ha dato valore a quello che ha fatto perché senza l'ubbidienza senza l'amore quelle cose non sarebbero valse a niente manco se fatte da nostro signore mi perdoni lo dice lui stesso insomma chi mi costitui vittima fu l'ubbidienza al mio caro padre che volle freggiare tutte le mie opere dalla più grande alla più piccola freggio dell'unifiche dell'obbedienza e quando qualche anima ci avesse paura dice ma ho un direttore spirituale qui si parliamo dell'aniscrianzato dice guarda ti preoccupare io faccio un miracolo della mia onnipotenza per dar l'uno a chi dirige ma chi è diretto non si deve muovere da questa valle santa quindi non c'è nessunissima possibilità questo vale per le anime vittime ma questo vale chiaramente stendendo il discorso a tutti appena si esce anche minimamente dall'ubbidienza a Dio e dall'ubbidienza alla Chiesa non ce ne importa niente che tutti disobbediscono d'accordo? stanno tutti in piedi della consagrazione l'esterno in piedi della consagrazione ha disubbedienza perché le norme liturgiche vigenti nella messa del novus sordo dicono che almeno dall'epiglesi al mistero della pete si sta in ginocchio d'accordo? per cui chi sta in piedi disubbedisce una norma della Chiesa d'accordo? sono un prete le norme della Chiesa dicono che l'abito ecclesiastico di un prete ordinario è la veste talare il clergyman è consentito altro non è consentito per cui senza voler giudicare esattamente nessuno se qualcuno esce da questo disubbedisce ad una norma della Chiesa e alle norme della Chiesa non si disubbedisce volontariamente neanche se lo fanno tutti perché se lo fanno tutti chi se ne importa? allora vuoi amare chi disubbedisce alla Chiesa tutti i casi disubbediscono tu no tu no tu no d'accordo che ti arriva un parvo che ti fa ammattire sta e continua a stare in comunione con il parvo per quanto ti arriva un mesco che ti fa ammattire la stessa cosa fuori dell'ubbidienza è tutto pericoloso dentro l'ubbidienza è tutto benedetto da Dio è tutto benedetto Santa Vergine Divina Maria concedici questa grazia grande di poter stare sempre dentro questa benedetta divina volontà di essere sempre vigilanti attenti cercare di evitare di fare il possibile per non uscire da questo recinto sicurissimo di luce che ci custodisce nella divina amicizia ci tiene sempre costantemente purificati e ci fa gustare anche da qui quanto è bello essere amici di Gesù non permettere mai che ci trasformiamo da amici in nemici e soprattutto concedici una grande sollecitudine un grande amore una grande attenzione al bene della Chiesa che non ci trasformiamo mai neanche con nessuna buona apparente intenzione in torturatori della Chiesa ma sempre come figli amorevoli e devoti sappiamo avvicinarsi avvicinarci alle sue ferite fasciarle e fare quanto possiamo per concorrere alla loro guarigione al loro risanamento allo splendore della Chiesa che tutti desideriamo e auspichiamo sperando di poter adesso nel nostro piccolo umilmente concorrere nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti di ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amore Fiat Ave Maria